buongiorno a tutti e oggi siamo qui con Gigi Abriani per un appuntamento legato alla presentazione del suo nuovo libro e di cui tra poco ci andrà a parlare nello specifico i custodi delle terre alte. Ciao Gigi, benvenuto. Gigi Abriani è un fotografo che si è dedicato per tanti anni alla fotografia e i suoi ultimi due libri in particolare sono dedicati sia alla fotografia che alla descrizione delle sue opere fotografiche. Perché siamo stati interessati a questa intervista in particolare? Perché Gigi ha seguito nello specifico i pastori dell'Alto Piano di Asiago e oltre a fotografare la loro vita, la loro tradizione e il loro modo di vivere molto diverso da quello che conduciamo oggi noi, ha descritto la loro realtà e nel suo ultimo libro in particolare descrive la realtà di molti pastori che tra di loro dialogano e raccontano la loro vita, la loro vita passata e la loro vita presente. Giusto Gigi? Sì esattamente, proprio così sì. È stata un'esperienza fantastica. Ci puoi raccontare un po' questa esperienza? Cosa ti ha colpito? Guarda, per fortuna quando ho cominciato a fare questa esperienza, che è nata dall'esigenza di darmi delle risposte, nel senso che mio papà appunto aveva delle pecore da piccolo e lui continuava a essere innamorato di questo mondo e noi non capivamo come si facesse così a essere innamorati di un mondo che era duro, che era sempre all'aperto, quindi sporco rispetto ai nostri punti di vista che abbiamo oggi. Quindi nel tempo ho cercato appunto di capire cosa c'era dietro questa passione per le pecore e qualche anno fa, mi ricordo che ero in Bolivia e vedevo dei pastori boliviani e mi dicevo ma io sotto casa ho questa realtà e non le conosco assolutamente, no? Ed è ignorante, ho chiesto a un pastore, ti posso accompagnare a Battista, ha detto Tita, ti posso accompagnare nella tua transumanza e da lì è nato questo lavoro che è durato due anni ma che mi ha preso tantissimo, insomma, quindi è stata una bella esperienza di vita. Hai seguito la transumanza dall'inizio, quindi quanti giorni? Sì, due anni, un anno e mezzo, però non c'è un inizio nella transumanza, nel senso che loro continuano a cercare l'erba, perché la fame d'erba che hanno i pastori e le pecore è insaziabile, nel senso che loro continuano a seguire la primavera, quindi quando li troviamo all'inverno nelle pianure è perché lì trovano qualcosa da dare a mangiare alle pecore, no? Cioè la temperatura è meno rigida delle montagne, eccetera. E man mano che si spostano in su, si spostano seguendo l'erba, appunto le troverai in aprile-maggio alle pendici delle montagne, che so giugno e luglio cominciano ad essere sugli altopiani e luglio e agosto sono sulle terre alte, quindi i pascoli più alti delle montagne. Volevo un attimo tornare a Vitaramenga, che è stato il primo, diciamo, posso chiamarlo fotoracconto? Perché mi viene in mente un diario di bordo, dove hai seguito appunto la transumanza di uno solo, un pastore solo. Come ti è avvenuta alla fine l'idea di passare dalle opere fotografiche, quindi lasciare che comunque sia l'interlocutore, la persona che le vede a capirne il significato, a darne un senso. Sai, mi sono portato via un taccolino, no? E man mano che fotografavo, avevo dei pensieri e li scrivevo. E dopo sentivo quando raccontavo anche in famiglia così, no? Queste cose che erano molto interessate, perché sai, la fotografia già di per sé è un racconto e quindi parla. Però se in quel momento provi una determinata cosa, provi una sensazione particolare, beh, condividerla con gli altri, no? Dal vero, quindi scriverla e farla leggere, è una condivisione che ti fa entrare ancora di più in questo mondo, perché penso che se tu vedi un tramonto hai qualcuno vicino a cui dire guarda che bello, ancora meglio, insomma. Esattamente, perché poi ognuno l'arte la interpreta in maniera completamente soggettiva. Un po' come un dipinto, ognuno vede ciò che... lo stesso per la fotografia, no? Però se senti una guida che ti spiega il dipinto, lo apprezzo... Senti esattamente, certo. E' proprio quello che hai fatto è descrivere la tua arte alla fine. Cosa ti ha colpito maggiormente di questo cammino, di questa trasformanza che hai raccontato? Guarda, che mi ha colpito... proprio il primo entro è stato fortissimo, no? Perché Battista mi ha dato appuntamento in un determinato posto là e lui mi dice guarda arrivi a tal ponte, prendi la strada a destra, giri... E quindi siamo ancora in un altro mondo, no? Perché se lui mi dice ti aspetto sul Piave, io gli dico ma dai la parte di Bassano o dai la parte di Tiene? Per capire da che parte del fiume è il giugliano. Quindi siamo ancora nel territorio, no? Molto concreto, molto reale. E la cosa che mi ha colpito di più, in assoluto, di tutti questi 4-5 anni che ho passato, è stato il tempo. Il tempo nel senso fisico della parola, quindi il dilatare della giornata, l'aspettare il tramonto, avere il tempo di parlare e quindi questo è stato un aspetto che mi ha proprio affascinato dal primo momento. E l'altro momento, l'altro concetto di tempo è quello del tempo, no? Perché quando facevo 500 metri, un chilometro per andare a fuoristrada, per andare a trovarli, mi sembrava di fare 500 anni o 1000 anni. Quando arrivi lì, sei un'altra dimensione, cioè tiri via la macchina e è uguale che essere nel presempio, no? Quindi loro vivono con la vita che facevano i pastori che adesso vediamo nel presempio. Non è cambiato niente, le pecore devono mangiare, loro accudiscono le pecore, prendono gli agnelli, li mettono vicino alla mamma. Quindi quel mondo lì, che sembra un mondo distante, alla fine è forse molto reale, no? E' un mondo che ci accompagna. Se tu tiri via da un panorama tutte le cose che non c'erano, che so, mille anni fa, restano le pecore e qualche abitazione diversa. Quindi queste pecore che sembrano un animale così insignificante, alla fine sono quelle che continuano comunque nella storia ad esserci, no? Quindi ecco, il tempo è stata la cosa più importante che ho provato in questa esperienza. E a proposito del tempo, pensi che pian piano queste società rurali che, come hai detto tu giustamente, vivono ancora in un tempo passato presente, perché conducono la vita del passato stando nei giorni nostri, stanno pian piano sparendo o c'è ancora questa necessità di continuare questa tradizione? Guarda, vorrei dirti che è il contrario. Nel libro nuovo, infatti, avrò su 30 pastori, più di metà hanno meno di 23 anni. E quindi, quando ho finito il primo libro di Vita Ramenga, ho cominciato, no? Perché tanti mi raccontavano delle storie, mi raccontavano le loro storie e mi dicevano, vieni a trovarmi se ti devo raccontare queste cose. E fra me e me dicevo, ma è un peccato che queste pelle, che queste cose qua vadano perse. E ho cominciato a frequentarle uno ad uno. Ho trovato, mi hanno telefonato, anche di ragazzi giovani, 16 anni, 17 anni, con 30 pecore, quindi proprio l'inizio di un pastore. E questi mi hanno interessato. Ho dovuto capire cosa c'è dietro le scelte di ragazzi di 18, 20 anni, 16 anni, per affrontare questo mondo qua. E vorrei dirti che c'è una riscoperta, sembra quasi, quando si arriva sulla venta più alta, che dopo si comincia ad andare un po' in giù. Forse siamo arrivati, con i ritmi del tempo che ti dicevo prima, siamo arrivati in cima della montagna. Adesso c'è anche bisogno di rientrare. E questi ragazzi qua, tantissimi, hanno cominciato a fare i pastori transumanti. C'è una cosa molto strana. Forse una ricerca in se stessi, perché la vedo anche come una sorta di ritiro per riconoscersi, no? Si ha un po' questa visione del pastore che vive solo in se stessi. Sì, diciamo che il pastore tendenzialmente è un solitario. Però queste persone qua, c'è qualcosa dentro che scatta e questi sono innamorati di questo modo di vivere. Noi li fareste andare in fabbrica neanche dopo morti. Quindi è una scelta di vita. E se c'è una cosa, che dicevo anche dei ragazzi di un liceo l'altro giorno, che mi hanno chiesto una domanda simile, una cosa che dobbiamo invidiare a loro, non è neanche il fatto che fanno i pastori, ma è il fatto che hanno scelto di fare i pastori. Quindi loro alla fine fanno la vita che vogliono e non si sono adeguati a uno standard di vita che le società ci proponono. Quindi dicevo a questi ragazzi, cercate di seguire l'istinto, cercate di seguire le vostre passioni. C'è ancora bisogno di chi deve fare dei lavori che vanno sparendo, ma non solo i pastori, i moratori, eccetera, eccetera. Quindi è una società che deve un po' rivedersi nei suoi aspetti, secondo me. Hai detto una cosa importante, sono scelte. Scelte, scelte. Non dettate dalla tradizione, non dalla famiglia, ma dal proprio istinto. Infatti Battista era figlio di un meccanico, e lui ha deciso di rompere, ha fatto la maturità. Quindi non parliamo di ragazzi che così non sanno cosa fare. Una volta il pastore era visto come l'ultima spiaggia. Non sai cosa fare, va a fare il pastore. Sono imprenditori che sanno, chiamano il proprio lavoro, e che quindi devono gestire magari migliaia di pecore, più la burocrazia, e quindi diventa un mondo che non è così scontato. Diventa un lavoro, come qualsiasi altro lavoro, con la dignità di qualsiasi lavoro. E invece nel tuo ultimo libro, I custodi delle terre alte, racconti un po' quello che in vita Ramenga avevi già raccontato, però i pastori parlano tra di loro. Qui non c'è l'incontro con un pastore, ma con più abitanti dell'altopiano. Cosa viene fuori da questo dialogo? Viene fuori la passione e il parquet ognuno di loro fa questa scelta, come ti dicevo. Il tutto, cioè mi è partita proprio anche la spinta per fare questa cosa, anche dal fatto che una pastora mi ha dato, la Rosa mi ha dato il suo diario. Quindi ero a pranzo con lei un giorno che gli ho portato dei libri perché lo volevo acquistare, e mi dice guarda, e mi comincia a raccontare la prima notte che ha dormito, lei che era operaia, la prima notte che ha dormito sotto le stelle. Questa è poesia. Quindi ho detto, guarda, dammi il tuo diario, ed è diventato il diario della Rosa un qualcosa che unisce tutti i racconti di altri pastori. Cioè, e alla fine trovi quello che è la risposta che cercavano. Proprio la sette potrei dire la voglia di libertà, che non è una libertà in cui puoi fare quello che vuoi, anzi sei molto limitato nel fare quello che vuoi, ma è una libertà, mi ha detto Manu, un pastore, non sono libero di andare dove voglio, e l'ho scritto nel retro del libro, ma sono libero dentro. Quindi guarda, è stata una frase che mi ha colpito, perché appunto essere libero dentro è una sensazione che pochi hanno. Quindi tutti questi racconti arrivano lì. Condivido. Penso che molti potranno condividere questa tua affermazione. Che cosa altro hai scoperto della vita? Come la conducono? Che cosa fanno prevalentemente di così diverso da quello che potrebbe fare un pastore dei giorni nostri, che è pur sempre un pastore, ma modernizzato, diciamo, rispetto a quanto non lo siano loro? Guarda, i pastori modernizzati adesso hanno un sistema leggermente diverso, però il tutto è vincolato sempre comunque dall'erba. Non puoi prescindere dal fatto, tu pensi ad avere mille pecore che si muovono in continuazione e non sono mai sazie. Quindi, per dirti, un problema che c'è sicuramente adesso e che devono affrontare è il traffico, le strade, eccetera. E quindi è molto bello sentire, quando dicono per televisione, patrimonio immateriale dell'umanità, la transumanza. Molto bello. Però quando le trovi per strada o quando sporcano una strada che il sindaco emette il divieto di passaggio per quel comune, dove vanno a pascolare, come fanno a passare? Cioè, ci sono autostrade, ferrovie. Prova a pensare solo 40 anni fa. 40 anni fa com'era il traffico, com'è adesso. Quindi, la difficoltà che vorrei dire è questa, senza contare dopo altri aspetti, lupi montagna, eccetera, queste cose qua, l'orso, eccetera. Però la difficoltà nel muoversi, nel territorio, è il fatto che la gente non è più tollerante verso di loro. Ma a me è un po' sempre così. Amiamo l'ecologia, però dopo arriva fin lì, poi ci pensano gli altri. È bello avere le pecore transumanti patrimonio, ma poi rompono le scatole. Quindi, siamo noi che siamo forse un po' da regolare rispetto a loro. Da una parte è proprio vero. a proposito di strade, mi è venuto in mente, molto spesso, diciamo, una pecora, ho trovato una pecora per strada, no? Ho trovato un animale che mi ha attraversato la strada. Ci sarebbe da ragionare se effettivamente è lui che attraversando invade una tua strada o sei tu che stai invadendo il suo territorio. Anche qui c'è un discorso riguardo proprio ai confini, no? Perché se io mi trovo in una strada, in un bosco e mi attraversa un cervo o un cinghiale o un qualsiasi altro animale selvatico, forse ci sarebbe da ragionare se sono io che sto invadendo il suo territorio o lui che sta invadendo il mio. Forse questo confine che hai raccontato tu non c'è perché appunto vivono in uno stato di libertà non solo interiore ma uno stato di libertà anche a livello di territorio perché non credo ci sia così tanta divisione tra il diciamo la civiltà se vogliamo così chiamarla e la natura. Come spieghi questo? Sì, diciamo questa cosa qua del territorio, del vivere il territorio è una delle cose più complesse che si trovano adesso quindi libertà territorio e il fatto di vivere in un contesto che dovrebbe essere naturale e invece è in contrasto con questo modo di società è forse il tema principale di quello che può essere lo sviluppo della pasturizia eccetera in questo momento. Per dirti in montagna sai che ci sono i lupi eccetera e quindi io ho parlato anche di lupo nel libro però non ho parlato pro o contro il lupo ho detto come sono le cose dal loro punto di vista ovviamente ma che dopo si ripercuote anche nel nostro punto di vita ti dico per esempio una cosa loro in montagna per difendersi dei lupi devono fare dei recinti hanno acquistato dei cani maramani che difendono i garaggi di notte quindi dobbiamo stare più attenti a come ci muoviamo perché si cane attacca anche delle persone che per lui sono magari dei problemi per i gregi quindi il cambiamento globale sai è come l'inquinamento pensa che non tocca mai a noi ma prima o poi dopo facciamo i conti con questo tipo di cambiamento sociale eccetera e della natura quindi ecco questo è una cosa che per dirti ho visto e ho sentito le preoccupazioni anche nei pastori molto forti insomma su questi argomenti qua e per quanto riguarda la storia la memoria storica di quello che hai potuto descrivere sì la memoria storica un giorno ero lì con i pastori per dire ti faccio un esempio che dicevano ah sai qua una volta c'era una casa che ho mangiato lì c'era un forso lì hanno seminato hanno seminato un campo quindi loro ti raccontano e sono come una specie di diario del territorio perché ogni anno si muovono e fanno grossomodo le stesse zone quindi ti possono raccontare quello che è il cambiamento che è avvenuto nel tempo il cambiamento che è vissuto anche nella società quindi loro hanno attraversato la storia e la società è come se fosse uno che continua a venire ogni anno in un certo periodo a casa tua e vede il tuo cambiamento vede la tua casa che si trasforma i tuoi figli che nascono che crescono eccetera e quindi loro sono una memoria storica proprio del territorio anche in questo senso ti possono dire e ti possono raccontare com'era la vita 30 anni fa 50 anni fa anche da un punto di vista proprio così delle case delle strade eccetera quindi loro vivono dentro il territorio noi tante volte con satellitare non sappiamo neanche dove passiamo insomma loro riescono a capire se un posto è cambiato rispetto l'anno prima o l'anno dopo anche un campo per cose dire assolutamente cosa piantavano adesso hanno piantato un'altra cosa non possiamo più passare con le pecore perché quel campo lì è stato seminato in un'altra maniera quindi sai loro sono proprio dentro ragionano come ragionano i contadini quindi devono confrontarsi con i contadini per dirti che sono ancora vincolati a volte da vecchi pregiudizi una volta il pregiudizio maggiore per dirti è quello sulle zecche dove passano i pecore si dice che ci sono le zecche invece le pecore sono fra gli animali più controllati in assoluto cioè vaccini contro le zecche eccetera quindi dove passano le zecche in realtà e dove passano scusa le pecore in realtà non ci sono zecche perché appunto lasciano il territorio pulito dove c'è l'incuria del territorio la trovi le zecche trovi i parassiti quindi ci sono tanti pregiudizi sui pastori sulle pecore che vengono da centinaia di anni in cui le cose erano totalmente diverse e adesso appunto pagano ancora questo tipo di atteggiamento questo tipo di pregiudizio che c'è su questo tipo di vita il pregiudizio può essere eradicato in due modi suppongo con la cultura quindi con la conoscenza nel tuo caso con il tramandare certe tradizioni certe memorie che a noi oggi sono sconosciute o talmente lontane che non ci rendiamo neanche più conto che esistano e in secondo cosa il confronto forse più nel secondo caso è una cosa un pochino più complicata perché il confronto implica che due parti si mettano nella condizione di comunicare se una parte ha più pregiudizio dell'altra diventa complicato però in questo c'è sempre la prima opzione cioè la cultura il divulgare il diffondere che ci sono delle false credenze e che rimangono tali nel senso che sono parte di un retaggio culturale che è antico hai toccato proprio un argomento che mi stava a cuore infatti in tutti i due libri mi sono a valcio di un veterinario il dottor Frison che ne ho coinvolto in questa cosa perché non potevo parlare sai la fortuna è che io sono ignorante di tutto quindi mi avvalevo di persone che hanno cultura e sanno e appunto ho chiamato questo veterinario che mi ha spiegato e ho scritto nel libro queste cose quindi sono diventato anche con un certo onore anche il fotografo dei pastori non mi considerano un po' il loro fotografo e quello che ti sto dicendo non è altro che la loro voce e quindi nel libro c'è c'è l'intervento sulle zecche sui lupi ma non da un punto di vista di chiacchiere ma da un punto di vista scientifico quindi c'è anche l'intervento di veterinario che spiega queste cose e quindi mi dicevo veterinario un giorno guarda che a volte sono più pericolosi i cani che abbiamo domestici che magari non facciamo tutte le vaccinazioni di un greggio intero che io ti garantisco ho detto che li controllo in maniera assidua quindi sì la cultura e ho cercato di portare nel mio piccolo un po' di cultura appunto per salvaguardare e diffondere anche queste cose che sono credenze a volte popolari proprio così gratuiti sì ed è quello che ci auguriamo che accada insomma perché ci sono ancora tantissimi pregiudizi sia sui pastori che sugli allevatori gli agricoltori tutto c'è anche a fare proprio con io li chiamo gli operatori della terra no? gli operai della terra quindi è molto importante quello che hai fatto e io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per averci dato la tua per averci raccontato la tua esperienza e averci portato la tua testimonianza e la testimonianza degli altri che non hanno voce e che è giusto che vengano ascoltati perché è questo che deve accadere sì guarda sono io che ringrazio te anche a nome dei pastori in questo caso quindi siamo in tanti che ti diciamo grazie perché queste cose qua come hai detto tu che è la parola fondamentale di tutti gli argomenti la cultura la cultura del conoscere e quindi come ti dicevo prima da ignorante mi sono posto allievo e ho capito tante cose però è stata un'esperienza di vita e proprio così intima che mi ha anche cambiato nel rapporto appunto con quel tempo con le persone con la tolleranza se vai da loro il caffè è sempre pronto no? e quindi questi atti di gentilezza che magari noi abbiamo perso tu pensi ti racconto questo aneddoto che mi ha colpito proprio il primo giorno che sono andato dai pastori stavano tosando le pecore e pioveva puoi immaginarti un paltano generale tutti sporchi eccetera io lì con la macchina fotografica che mi sentivo veramente a disagio perché sì mi sentivo fuori luogo è partito un pastore dalla dalla sua dalla sua roulotte con un caffè ha attraversato il campo mi ha portato un caffè ma quando mai facciamo queste cose o troviamo il tempo loro che stavano lavorando di portare un caffè a me che stavo lì tutto sommato che era un po' un intruso quindi questa cosa qua l'ospitalità e l'attenzione verso l'ospite quindi tutte cose che ti lasciano che ti fanno pensare è quello la riflessione che però vedo un cambiamento nel senso che ti ha dato un cambiamento una spinta positiva tutto questo ti ha fatto anche riflettere su quelli che sono anche i comportamenti nostri e giorni nostri che non sono sempre giusti o sempre sbagliati però insomma ti pongono in una in una situazione di riflessione su quelle che sono le le dinamiche che uno può avere o meno con gli altri esseri umani sì soprattutto il tempo guarda è stata la prima cosa che ti ho detto e se guardi un attimo la nostra società cominciamo a mettere lo slow food lo slow time andiamo lenti facciamo questo e loro lo fanno in maniera naturale quindi forse tutta la nostra ricerca è una ricerca che va a finire le nostre radici la nostra storia forse è un fermato ci siamo dimenticati forse esatto è tutto lì tutto lì guarda è un cerchio che continua a riproporsi quindi siamo dentro a un ciclo tutto lì esattamente siamo giunti alla fine io ho un'ultima domanda che più che altro è una curiosità quali sono i tuoi progetti futuri avrai voglia di scrivere un altro libro documentario un altro documentario io lo chiamo documentario perché documenti appunto delle riporti dei fatti che nella società diciamo come dicevamo oggi molto veloce molto smart sempre a mille non non pensiamo di dover ragionarci su quindi se ci sono degli obiettivi futuri se hai delle l'obiettivo non dovrei dirtelo altrimenti mia moglie poi va bene quindi siamo scaramantici nel senso mi piacerebbe fare documentare perché dopo mi piace sempre fare delle cose diverse non riproporre quello che ho fatto o fare delle brutte copie sai ci sono tutte le montagne vicentine per direte come succedono in tutte le montagne d'Italia dalle valli d'Aostra di Lombardia percorsi storici che facevano i pastori da sempre e documentare questi percorsi che erano le vecchie vie che conducevano le montagne quindi unire l'esperienza appunto delle transumanze su queste vie nuove che mi piacerebbe conoscere eccetera perché sai una delle cose che dopo mi ha fatto riscoprire è stato il territorio noi non conosciamo il nostro territorio assolutamente facciamo sempre i soliti giretti ma dietro a casa abbiamo delle cose meravigliose e quindi la voglia di scoprire i pastori eccetera o le storie che sto raccontando mi permettono anche dopo di riscoprire con curiosità da fotografo le mie zone e le mie montagne insomma quindi ecco questa è un po' l'idea che mi fruglia molto bene grazie grazie a Gigi grazie a te io rinnovo i ringraziamenti anche dal nostro direttore di Luminanzi Alessandro Fantini grazie molto meglio grazie a questo punto ci vediamo nel prossimo futuro l'anno nuovo e magari con una nuova nuova esperienza da raccontare te ringrazio gentilissima sai un abbraccio grazie mille a te ciao 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 ciao